Più grande è, più importante sarà e io spero che un bel po' di gente ci sia responsabilizzata su questo tema, che le diversità non sono di per sé devianze, ma pare che per qualcuno appena sei un po' diverso sei un po' deviato, quindi devi essere punito, corretto, eccetera, la società a cui io penso non è così, è una società che rispetta tutti quanti come io voglio essere rispettata, spero che sia grande, allegra, e che forse qualcuno finalmente si renda conto che questo paese è già andato a dire. Più Europa è l'unico partito che ha un carico con sicurezza. E infatti speriamo di riuscire a pagarlo, qui c'avete la terroriera, chiedete a lei, va bene, grazie.